La missione per il governo Frattura è delicata perché in gioco c'è la tenuta dei conti pubblici della regione. È atteso alle 15 e 30 a Roma il faccia a faccia con il vice ministro dell'economia Stefano Fassina per capire come affrontare la sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha bocciato il consuntivo 2011 del Molise. La consulta ha attestato debiti fuori bilancio per un miliardo e 286 milioni di euro. La regione Molise rischia il dissesto finanziario. Parteciperà all'incontro anche il vice presidente della giunta Michele Petraroia. Invito tutte le forze politiche ad unirsi per cercare di trovare una soluzione. Oggi noi porremo al vice ministro dell'economia Stefano Fassina il quesito su come dobbiamo muoverci perché i rilievi della sentenza della Corte Costituzionale sono sia di forma e quelli possono essere agevolmente superati riproponendo un'approvazione di un testo di legge modificativo in Consiglio regionale in via d'urgenza. Ci si può impiegare anche 15 giorni però ci sono dei rilievi sostanziali. Se noi dobbiamo procedere alla svalutazione dei residui attivi che vengono contestati in ragione di un miliardo e 286 milioni di euro anche una parte modesta penso al 10 per cento rappresenterebbe per i conti della regione molise in questo momento un importo difficile da individuare a copertura. Il dissesto finanziario della regione molise dunque è un rischio concreto. Io mi auguro ovviamente di no e mi auguro che l'aiuto della ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Tesoro, del Vice Ministro Fassina ma se serve dell'intero governo che impegneremo come giunta regionale, come Consiglio regionale possa evitare al Molise una situazione di default. L'economia della nostra regione ieri l'ha descritta in maniera impietosa la Banca d'Italia nel suo rapporto annuale. Gran parte dell'economia ruota intorno ai trasferimenti pubblici e a quello che fa la regione molise. Se si ferma anche la regione molise guardate non è una questione di destra, di sinistra, di iorio o di frattura e che si ferma buona parte del lavoro e delle attività che si fanno sul nostro territorio.